Venerdì 22 febbraio, presso la Sala della Comunità La Providenza di Vallo della Lucania, è stato presentato il videocatechismo della Chiesa Cattolica, un lavoro multimediale che per la prima volta racconta, viaggiando nei cinque continenti, il testo integrale del catechismo, un film suddiviso in quattro parti, la professione della fede, la celebrazione del mistero cristiano, la vita in Cristo, la preghiera nella vita cristiana, 25 ore di filmati, articolati in 46 episodi della durata di 30 minuti ciascuno, per un totale di 15 dvd, un lavoro durato cinque anni, con 60.000 persone coinvolte in tutto il mondo, oltre 3.000 annunciatori, tra donne e uomini di ogni ceto sociale e professione, chiamate a leggere il testo integrale del catechismo nella propria lingua, in rappresentanza di 70 nazionalità. All'evento della Providenza hanno partecipato numerose persone, provenienti dall'intera diocesi, parruci, rappresentanti dei catechisti e dei consigli pastorali, autorità civili e militari, sindaci dei comuni ricadenti nel territorio della diocesi e vertici del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni. Dopo i saluti e il benvenuto di Monsignor Ciro Miniero, vescovo della diocesi, sono seguiti gli interventi del dottor Luca Caruso, giornalista e portavoce della Fondazione Vaticana, Josef Ratzinger, Benedetto XVI, del regista dottor John Colndrecai, ideatore e produttore dell'opera, della dottoressa Tania Camarota, moglie del regista e produttrice dell'opera. L'evento è stato presentato dal dottor Giuseppe Di Caro, giornalista della sede Rai della Campania. Gli interventi sono stati intervallati da alcuni video, tratti dal videocatechismo e da brani musicali, eseguiti dal mezzo soprano Rossana Rinaldi, accompagnata dal coro della diocesi di Vallo della Lucania.